Eccoci l'ingresso in campo, gara valevole per il campionato, seconda fase del campionato titolo provincia, tra la Valle a Ventino con la divisa rossa, maglia rossa, pantaloncine e calzettoni neri, mentre la Virtus Castelfrentano con la divisa bianca con risvolti giallorossi, tutta bianca. Adesso c'è il sorteggio, ci troviamo qua a Fara San Martino, c'è la Gola, bella località di montagna, temperatura mite. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti.